Almeno 12 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un pullman di croceristi diretti alle rovine maya di Chacho Ben, nella penisola messicana dello Yucatan. A bordo anche due italiani che stanno bene e hanno fatto già ritorno sulla nave. Tra i morti ci sarebbe anche un minorenne. Il portavoce della locale protezione civile ha spiegato che il pullman si è rovesciato in autostrada dopo l'esplosione di uno pneumatico. A seguito dell'incidente l'autista si è dato alla fuga. Grazie a tutti.